E' finita, dopo il danno la beffa. A tutt'oggi, cari concittadini, il Comune di Solapaga non ha ancora nessuna rappresentanza del Consiglio della città telesina. Perché? Perché il sindaco e la sua maggioranza non ottemperà da quanto disposto alla sentenza del TAR? Lascio a voi le conclusioni. Lascio a voi le conclusioni. Lascio a voi le conclusioni. Io te portare, io te portare La giornalza non ha temperato a quanto disposto alla sentenza del TAR Lascia pure le collusioni Orvi A tutt'ora